Quarta parte della undicesima lezione dell'insegnamento di analisi 3. Abbiamo visto nella parte precedente che è possibile calcolare formule esplicite per determinare le proiezioni ortogonali su sottospazi di dimensione finita. Abbiamo visto che per farlo dobbiamo risolvere dei sistemi lineari con una matrice del sistema che è calcolata, ha come componenti i prodotti scalari degli elementi di una base del spazio su cui si proietta. Ora, risolvere un sistema lineare può essere a volte impegnativo, sicuramente però diventa estremamente semplice quando la matrice dei coefficienti è la matrice identità. In questo caso avere come matrice identità nel sistema che ci interessa significa avere una base in cui il prodotto scalare di due vettori distinti della base è nullo e invece i termini diagonali mi danno 1, cioè il prodotto scalare di un vettore con se stesso è 1. quindi il problema si semplifica enormemente quando i vettori sono a due a due ortogonali e hanno norma 1. Quando abbiamo un sottoinsieme di uno spazio prelbertiano i cui elementi hanno tutti norma 1 e sono a due a due ortogonali chiamiamo questo sottoinsieme un sistema ortonormale, quindi vettori normalizzati e ortogonali tra loro. Quando abbiamo un sistema ortonormale i vettori sono sempre tutti linearmente indipendenti. Se a1, a2, a n sono un numero finito di vettori di un sistema ortonormale e andiamo a prendere una loro combinazione lineare somma di lambda k a k per certi scalare lambda 1, lambda 2, lambda n, se questa combinazione lineare ha somma nulla avremo che 0 sarà uguale alla norma della somma di lambda k a k al quadrato. ma i lambda k a k sono tutti vettori tra di loro ortogonali quindi possiamo applicare il teorema di Pitagora nella versione per le somme di n vettori mutualmente ortogonali e quindi il quadrato della norma della somma è uguale alla somma dei quadrati delle norme delle singole componenti. ma la norma di lambda k a k per la proprietà della norma questo è il modulo di lambda k per la norma di a k siccome siamo un sistema ortonormale la norma di a k è 1 mi rimane la somma del modulo del lambda k al quadrato. Una somma di quadrati fa 0 se e solo se ciascun quadrato è nulla e quindi otteniamo che i coefficienti di lambda k devono essere nulli per qualsiasi indice k. e quindi se una combinazione lineare ha somma nulla tutti i coefficienti sono nulli questo prova che i vettori sono tra loro linearmente indipendenti. Quindi adesso supponiamo di avere un sistema ortonormale formato da n vettori h1, h2, hn in uno spazio prelibertiano e andiamo a considerare lo spazio v generato da questi n vettori quindi sono linearmente indipendenti quindi questi n vettori formano una base di v è uno sottospazio di dimensione finita quindi anche chiuso e completo. Dato un qualsiasi elemento dello spazio sappiamo che esiste la proiezione ortogonale perché v è uno spazio chiuso e completo. Se p è la proiezione ortogonale di x su v x meno p sarà un vettore ortogonale a v se p sta in v lo possiamo scrivere come combinazione lineare degli elementi della base. Ripetiamo il discorso che abbiamo già fatto prima ma se andiamo ad applicare la condizione di ortogonalità cioè che x meno p è ortogonale a tutti i vettori di v quindi anche tutti gli elementi della base otteniamo che il prodotto scalare di x meno p con hk deve fare zero ma per linearità esattamente come prima questo è x scalare hk meno la sommatoria dei lambda j scalare hj hk ma adesso i coefficienti hj scalare hk sono 0 quando j è diverso da k o 1 quando j è uguale a k quindi in questa somma l'unica cosa che rimane è il coefficiente lambda k quindi x scalare hk meno lambda k deve fare zero e quindi ecco che troviamo che lambda k necessariamente è il prodotto scalare di x per hk vedete qui il sistema lineare è stato risolto immediatamente e quindi troviamo la formula esplicita per la proiezione quindi quando h1 hn è un sistema ortonormale che fa da base uno spazio v di dimensione finita la proiezione ortogonale su v si ottiene facendo la somma componente per componente di hk moltiplicati come coefficienti il prodotto scalare di x con hk questa è una formula molto importante vale per il spazio di dimensione finita poi vedremo che la generalizzeremo nella prossima lezione a qualsiasi spazio sottospazio chiuso in modo opportuno una proprietà importante legata ai sistemi ortonormali è la disuguaglianza di Bessel cosa dice? dice che se abbiamo un sistema ortonormale finito allora la norma di un qualsiasi vettore x al quadrato è sempre maggiore della somma dei quadrati dei moduli di questi coefficienti x hk x scalare hk la dimostrazione parte col teorema di Pitagora ogni vettore x lo possiamo decomporre in modo ortogonale come x meno la sua proiezione ortogonale più la proiezione ortogonale x meno p e p sono ortogonali fra di loro e quindi il modulo di x al quadrato per il teorema di Pitagora è il modulo di x meno p al quadrato la norma di x meno p al quadrato più la norma di p al quadrato una somma di quadrati è maggiore di uno dei due vettori quindi questo è un conto che abbiamo fatto anche prima la norma della proiezione al quadrato è minore della norma di x al quadrato ma la norma della proiezione siccome stiamo facendo una combinazione lineare di elementi a due due ortogonali l'abbiamo visto anche prima sempre per il teorema di Pitagora la norma di p sarà la somma del quadrato delle norme delle singole componenti e quindi esattamente come prima siccome HK ha norma 1 rimane fuori la norma del modulo dei coefficienti al quadrato questo calcolo qui fatto in modo diverso è del tutto analogo al calcolo che abbiamo fatto prima